Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, finalmente l'estrazione del giveaway. Adesso andiamo a rivedere tutte le regole e i premi che ci sono in palio. Le regole erano essere iscritte al canale, mettere mi piace al video e commenti limitati e terminava il 13 di febbraio. I premi sono due tazze, un contenitore, due pinze e un'insalatiera. Ma adesso finalmente passiamo all'estrazione del giveaway che vado a fare oggi 15 febbraio alle 10 e 29. Potete controllare questa data e questo orario in basso a destra per tutta la durata del video. Grazie. Grazie.